E il simbolo di Cosenza e dopo anni di lavori avviati e sospesi finalmente ha riaperto al pubblico. Nella serata di ieri il taglio del nastro, il centro storico Bruzio si riappropria del castello Normanno Svevo, volano di attrazione di visitatori e turisti e patrimonio dei cosentini. È una giornata storica perché un monumento così importante, non solo per la cultura, per la tradizione, ma anche per l'identità della nostra città, ritorna ai cittadini. Dopo tanti anni, io credo che nessuno ricordi bene, perché a memoria d'uomo non si ricorda in realtà che il castello è tutto integralmente agibile e questa volta, vuol dire, da adesso in poi avremo un bene che non solo diventa fruibile, quindi godibile da parte dei cittadini e dei turisti che visiteranno la nostra città, ma diventa anche un contenitore di eventi che potrà quindi supportare anche da un punto di vista turistico, culturale, diciamo, il nostro territorio. La riapertura del castello è una delle tappe del programma dettato dal sindaco della città Mario Chiuto che punta sulla rivalutazione e riqualificazione del centro storico. Noi stiamo operando fattivamente con azioni concrete per il recupero del centro storico, intanto con il restauro di tutti gli edifici pubblici, anche degli spazi pubblici, dei ponti storici e poi anche con attività di incentivazione con le zone franche, che promuovono e incentivano attività private, con eventi e con nuove idee come quello dei box art. Da segnalare però alcune polemiche che la festa organizzata per l'inaugurazione e lo splendido panorama non sono riusciti a smorzare. Parliamo dell'ascensore considerato incompatibile con il contesto storico e culturale, polemiche a cui il sindaco ha risposto così. Credo che in questo caso il castello abbia avuto un ottimo restauro da un punto di vista conservativo. Ci sono alcuni particolari accessori che abbiamo concordato anche con la soprintendenza, fra i quali il vano ascensore, che possono essere migliorati, però non c'entrano nulla con il restauro perché sono corpi che sono esterni alla struttura muraria.